Nooo ho sbagliatuuu Nooo 90 nooo Peccato cazzo Let's go Nooo 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 chan... 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 ok... BUMMALO BUMMALO Ancora E' la seconda volta CAUS BUMMALO No Forse e' per 2 stelle 4000 stelle E' abbiamo finalmente raggiunto il traguardo delle 4000 stelle NON Ne avevo idea Un like Perchè un demon fatto bene Poison champion Ok infatti E' anche il bonus champion Va bene Ho sbaccato tanta bella roba Prendiamo i nostri diamanti Qui quante chiavi ho? 6 quindi posso permettergli di aprire una mega cassa 20 diamanti Ok ci può stare Andiamo ad aprire le Daily chest Le ultime che ci mancano per Oggi Perfetto Per questo video e' tutto Vi ringrazio per averlo visto Lasciate un mi piace Un commento, condividete, iscrivetevi E ciao a tutti